Buongiorno a tutti. Ho il piacere di presentare i miei saluti alla Life Foundation, che è l'organizzatrice di questo evento, allo studio Cassiel e soprattutto al conte professor Mauro Norton Rosati di Monte Prandone de Filippis Delfico, che è consultore da tantissimi anni dell'Annuario della Nobiltà Italiana, che io dirigo da altri tantissimi anni, e grazie a lui veramente l'Annuario ha potuto affrontare tutta una serie di sfide che si sono presentate nel corso del tempo. Che cos'è l'Annuario della Nobiltà Italiana e perché è così importante? L'Annuario della Nobiltà Italiana è una pubblicazione pensata per la prima volta nel 1872 da Giovanni Battista di Crollalanza, un famosissimo ancora oggi studioso di Araldica, e poi tramandata attraverso qualche generazione nei suoi discendenti, poi si è interrotta per mancanza di, diciamo così, persone in grado di farlo funzionare. Cos'è l'Annuario? L'Annuario è un repertorio genealogico che aggiorna e sistema via via i dati genealogici, biografici ed anagrafici dei nobili italiani e non solo, anche di nobiltà affini a quella italiana come quella monegasca o quella del patriziato di San Marino, dei titolati sanmarinesi, dei titolati pontifici, eccetera. Perché è nato? Perché l'uomo tende a perdere la memoria, soprattutto delle generazioni e delle concatenazioni genealogiche. Quindi l'Annuario, che è una pubblicazione che registra gratuitamente i dati e li pubblica, permette di salvare questo genere di dati dall'oblio. E' iniziata come una piccola edizione, come era del resto nell'Ottocento, con questi volumetti che voi vedete qui, molto piccoli. E pian piano, col passare del tempo, è diventata una pubblicazione molto più imponente, come potete vedere da questa, che è una delle ultime edizioni. Vedete, cioè è un continuo lavoro di registrazione di dati, di date, eccetera, che non avrà mai fine. In più l'Annuario ha uno scopo, quello di recuperare il pregresso. Quindi l'Annuario fa anche delle ricerche di sua iniziativa, attraverso appunto i membri del comitato scientifico, che sono circa un centinaio attualmente, e tra cui fa appunto parte Mauro Norton De Rosati. Sono vari tipi di professionalità che si dedicano gratuitamente, perché credono nel progetto culturale portato avanti dall'Annuario. E' piaciuto moltissimo questo genere di riscoperta, anche da un punto di vista editoriale, di questo tipo di opere. Considerate che nel mondo, invece, questo genere di opere tendono a scomparire, proprio perché la società è molto mutata, e proprio perché mancano spesso degli editori, e dei direttori competenti in materia, in grado di dedicarsi a questo genere di opere, che non crediate, hanno sì un vasto numero, un vasto pubblico di appassionati, ma anche di critici, per i vari motivi, di solito perché si tratta di persone che vorrebbero essere iscritte, ma non lo sono. L'Annuario è una pubblicazione indipendente, quindi si basa esclusivamente sulle prenotazioni che vengono fatte, ma che non sono obbligatorie per gli aggiornamenti. Come vi dicevo, io dirigo l'Annuario ormai dal 2000. L'Annuario di oggi è molto diverso rispetto a quello pensato da Crollalanza, anche perché lui scriveva nell'Ottocento, durante il Regno d'Italia, quando i titoli nobiliari erano riconosciuti, ma in un'epoca in cui non esistevano ancora degli elenchi ufficiali, mentre oggi noi non possiamo prescindere dall'opera di lavoro di censimento fatta durante il Regno d'Italia, sempre e spesso d'ufficio dei nobili presenti negli antichi stati preunitari italiani. Il Regno d'Italia aveva, attraverso la consulta araldica, uno scopo molto simile a quello dell'Annuario, cioè quello di censire almeno da un punto di vista onomastico le famiglie che erano presenti ed erano considerate nobili. Ovviamente questo, come vi dicevo, è una pubblicazione che ha avuto un grande successo e che si cerca di replicare anche all'estero, anche perché, come vi accennavo spesso, fuori dall'Italia, queste pubblicazioni sono o morte oppure non sono mai nate. Quindi adesso c'è in corso un progetto a livello planetario di censimento delle case reali, sovrane, quindi ancora regnanti, oppure deposte dall'Ottocento in poi, proprio per evitare che si perda la concatenazione genealogica e tutta una serie di preziosi dati, anche relativi a famiglia un tempo sovrano, un tempo sovrano in tempi recenti anche rispetto ai nostri. Quindi è per quello. Quindi vedete che l'Annuario ha tante missioni, non solamente quella di salvare dall'oblio i dati degli italiani, ma anche quella di salvare dall'oblio realtà culturali e sociali esterne all'Italia. Vi ringrazio molto per avermi ascoltato e spero che la conferenza, come credo, abbia il solito successo che contraddistingue tutte le iniziative del Conte Rosati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.